Prima lezione qui al campus universitario Aretino, l'Università di Siena, sede di Arezzo, per una professoressa che è scappata dalla guerra in Ucraina e che è riuscita proprio oggi a riprendere la sua professione. Sono cose delle quali non potevo neanche sperare quando siamo arrivati in Italia senza ancora conoscere come sarebbe stato. Era tutto pieno di buio, pieno di paura, ma sono dei preziosissimi aiuti che mi sta dando adesso l'Università di Siena in tanti sensi, sia per le cose piccole e quotidiane che per quelle proprio dell'esistenza, insomma ne va di mia vita ora in questi giorni. Avete lasciato l'Ucraina, ma là chi è rimasto? È rimasto mio papà e sono rimasti altri parenti, parenti c'è il marito di mia sorella per esempio, il mio cognato, i suoceri, che ci sono tutti, eravamo tutti molto vicini perché vivevamo tutti anche molto vicino. Che cosa insegnerà qui insomma al campus Aretino e qual è diciamo poi la speranza per il suo futuro? Lavorerò con gli studenti di lingua russa, li parlerò prima in lingua russa dell'Ucraina come ho pure fatto oggi, proprio fin dall'inizio, poi spero di riscontrare interesse anche per il mio piccolo corso d'Ucraino che farò per loro. Le prospettive per il futuro purtroppo è un po' buio, sì come ho detto, certo siamo ottimisti dal punto di vista di poter ritornare a casa, non so che cosa mi ci trovo, però insomma la speranza è quella.